Vediamo adesso quello che appare certo in questo periodo, cioè che siamo in una nuova fase politica in cui tutti vanno d'accordo, anche quelli che per anni se ne sono detti di tutti i colori. Guardate. Cari amici elettori e amiche elettrici, sono convinto che mai come in questo momento serva un dibattito franco e onesto dai toni mai accesi e nel quale si riconosca all'avversario anche i meriti e le capacità. Un confronto che abbia come punto di riferimento, come orizzonte morale, direi il bene primario, quello dei cittadini. Qui lo scritto e qui lo leggo. Io sono senza parole, ma c'è un errore? Sta poco bene? Vuole uscire e rientrare? Vuole un bicchier d'acqua? No, no, no. Basta con lo scontro, Faccio Fabio. Basta con lo scontro? Basta con la lotta all'avversario. Qui lo scritto e qui lo leggo. Il paese ha bisogno di una fase nuova di pacificazione tra gli opposti. In tal sensamente ho già pronti gli slogan. E quali sono? Basta con la lotta tra maggioranza e opposizione. Non la riconosco più. Basta con la lotta tra laici e cattolici. Ma sono principi importanti. Basta con la lotta all'evasione fiscale. E no. Con la lotta alla povertà. E no. Con la lotta alla criminalità. Ma no, così non vale. E quando dico basta e basta. Ma no, ma scusi. Ma come? Era partito bene. Ma scusi. Siamo in una fase nuova. Non serve la lotta, ma serve il dialogo, signori miei. Serve il dialogo anche mentre tra istituzioni e cittadini. Tra amministratori e amministrati. Tra truffati e truffatori. Tra andrangata e camorra. Ma come? Assassini e assaziate. Ma come? Tacco. Adesso la riconosco. Ma scusi. Ma bello, ma zio Fabio. Ma c'è illuso. Ha fatto tutta la premessa. Dovevo dire quelle quattro puttanate per cominciare. Allora Severnini, c'è la qualunque albanese. Secondo te, adesso siamo in un periodo di larghe intese, no? Con il nuovo governo Monti. Ma finirà così? Che tutti all'inizio sono buoni, si comportano bene e dopo... Gruber Lilli per usare. Gruber Lilli, lei sta facendo, anzi tu stai facendo servizio pubblico stasera. Perché per tirarci su di morale ci vuole. Però stai facendo uno scherzo a me, perché io devo concentrarmi e risponderti quando mi viene da ridere. Quindi loro non vedono durante il quadro, ma sono veramente molto divertenti. E beh, la va imbroccata. La prima parte, basta lotte fra opposizione e maggioranza, accetto qualunque la va imbroccata.